Commenta il Fatto del Giorno Enzo D'Antona, direttore di Il Piccolo. La nascita della Federazione del Mali corona il sogno del movimento della negritudine. Una data molto importante per i rapporti tra il Terzo Mondo e l'Occidente, perché la nascita della Federazione del Mali con il Senegal e il Sudan francese rappresenta il primo momento di realizzazione concreta del movimento della negritudine. Cos'era questo movimento? La parola negritudine era già nata precedentemente, però era un movimento che si era sviluppato poi nel corso del dopoguerra. L'esponente principale era Leopold Senghor, che poi diventò presidente del Senegal ed è un grande poeta, che aveva alla base un grande progetto politico e culturale. Il progetto era quello di ridare dignità ai popoli dell'Africa nera e di liberarli dal complesso di inferiorità verso l'Occidente, che allora aveva la faccia colonizzatrice, e quindi con l'obiettivo di creare un'identità generale di tutti i popoli neri, un'identità comune. Detta così sembra una cosa semplice. In realtà era un atto rivoluzionario, perché poi questo movimento della negritudine che ebbe comunque a poco a poco riuscì ad assimilare vari movimenti culturali nati nell'Africa nera, poi si saldò con la Negro Renaissance di Harlem, con i movimenti afro, cubani, haitiani, effettivamente facendoci vedere una cosa che prima non avevamo visto. Insomma riuscì a sdoganare in qualche modo una cultura autoctona africana e diventò un grande movimento internazionale. Ovviamente la federazione del Mali non durò più di tanto, però questo poco importa, perché comunque in realtà l'obiettivo principale era stato raggiunto e da lì si sarebbe sviluppato un dibattito che dura ancora oggi.